Il guerriero del cuore. Pensieri e riflessioni per conquistare la propria vita. Di David De Angelis. Edizione audiolibro 2022 di David De Angelis. Narrato da Alex Martinelli. Tutti i diritti sono riservati. La vita diventa ciò che ne facciamo. È una creazione individuale. Quale canzone si vuole cantare è una scelta personale. Chiunque può cantare note celestiali. Basta un po' di esercizio. A ogni cuore vorrei dire. Prendi in mano il tuo flauto. Il tempo vola. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di cantare. Prima che cali il sipario, devi cantare la canzone della tua esistenza. Osho. Semi di saggezza. Dà una lettera. A te, guerriero. Caro lettore, donna o uomo che tu sia. Di qualunque colore sia la tua pelle e a qualsiasi religione tua appartenga, questo libro è stato scritto per te. Artigiano, fabbro, ingegnere o pittore. Questo libro ha la pretesa di parlare a quel qualcosa che tutti hanno dentro di sé, ma che pochi si prendono la pena di ascoltare. Il proprio cuore. Quante volte ti ha parlato e quante volte non lo hai ascoltato. La sua musica è fatta di vibranti emozioni, che se solo ascoltate potrebbero fare della tua vita una sinfonia melodiosa, al di là del frastuono assordante della vita moderna, dove tutto conta tranne colui che scandisce, battito dopo battito, il trascorrere della tua vita. Questo piccolo libro è qui per indicarti un percorso, una via, un cammino, che è quello del guerriero del cuore, colui che, armato di coraggio, fede e passione, si avvia verso la più alta espressione di sé. Un cammino arduo, ma che ha sempre permesso all'uomo o alla donna che lo hanno intrapreso, di stupire se stessi e di elevarsi al di sopra di quella vita che fa solo nascere, crescere e morire senza conoscerne ed apprezzarne il suo profondo significato. Caro lettore, ora hai gli strumenti. Sta a te riconoscere e seguire il tuo personale cammino di grandezza e fare del tuo cuore la lanterna della tua vita. David De Angelis Il guerriero del cuore Il guerriero del cuore è colui che crede. Crede nei segni che il suo cuore, messaggero di emozioni e premonizioni, gli invia. Crede nella sua vita, che è un viaggio. Un viaggio di dubbi, speranze, emozioni. Il guerriero è colui che si emoziona davanti a un cielo stellato e a una luna iridescente. Colui che, davanti al sole rosso che si spegne all'orizzonte, si chiede cosa gli riserverà il domani. Chiede a se stesso se ha agito seguendo la legge, l'unica legge che lui conosca, quella del suo cuore. La legge del suo cuore è la legge di Dio, quel Dio onnipotente ed infinito che gli ha permesso di sentire e percepire quella musica melodiosa e affascinante che proviene dalle profondità di se stesso, al di là di ogni frastuono esteriore. Il guerriero è colui che cerca di interpretare con umiltà, saggezza e passione la sua vita, cercando di incarnare, al di là delle sue debolezze, le virtù e la stessa legge del guerriero. Il guerriero è colui che sa di essere nulla di fronte all'immensità del creato, ma che ha il coraggio di avanzare nel suo cammino alla ricerca della maestria personale, che altro non è che lo sviluppo dei propri talenti. Miracolo Il primo grande miracolo nella vita del guerriero del cuore avviene quando egli prende coscienza di se stesso e di quanto potere egli abbia sulla sua vita. Egli ben conosce la sensazione spiacevole di distacco ed impotenza nei confronti del flusso degli avvenimenti, ed è proprio per questo che ora apprezza il potere liberatorio della connessione consapevole con la fonte di tutta la manifestazione. Egli si accorge di questa importante svolta nella sua vita quando sente ricolmo il suo cuore di tutti i buoni propositi che, insieme alle sue azioni perseveranti, lo porteranno verso la sua cosciente evoluzione ed espressione. La sua vita diventa pregna di magia. Il miracolo entra nella sua vita. Dirigendosi verso l'armonia, egli diventa a mano a mano strumento accordato nelle mani di Dio. Altri miracoli lo attendono lungo il cammino. Germogli di semi che lui ha amorevolmente piantato nella sua coscienza, innaffiati con l'acqua limpida della sua stessa consapevolezza in espansione e di caldi raggi della fede. Evoluzione L'esistenza è divenire, fluire nel mare della vita. Nulla è statico. Tutto si trasforma continuamente ed inesorabilmente. Ogni esperienza, ogni sentimento, lascia il segno e la traccia di un universo che cambia ed evolve. Arriva un punto in cui, dopo la moltitudine di esistenze passate nel sonno dell'inconsapevolezza, qualcosa sboccia ed inizia a fiorire. Nel guerriero del cuore è la coscienza di se stesso come essere in evoluzione. È una svolta nel ciclo di esistenze che segna il momento del ritorno a sé, del ritorno a casa. Il guerriero si sveglia da questo lungo sonno con un'energia ed un entusiasmo che vanno via via crescendo. Come al risveglio, dopo una lunga notte, i primi raggi di sole aumentano di intensità, luminosità e calore. Da questo momento in poi, le sue azioni ed i suoi pensieri sono combinati verso la piena evoluzione ed espressione. Ora egli sa. È qui per sperimentare, gioire, baciare, toccare, crescere e amare. È qui per creare ed esprimere. Ogni istante diventa prezioso, perché ricco di consapevolezza e dell'attimo presente. In qualunque situazione sia nato, il guerriero sa che a mano a mano che la sua coscienza e consapevolezza di sé si espandono, così il suo mondo si espande e cambia di conseguenza. Come è dentro, così è fuori. Lavorando pazientemente e coscientemente su se stesso, egli evolve, cavalcando l'onda del cambiamento e della sua evoluzione. Egli lavora sul suo corpo, rendendolo accordato come uno strumento. Lavora sulla sua mente, nutriendola di pensieri elevati. Lavora sul suo spirito, abbandonandosi alla meditazione. L'evoluzione cosciente è iniziata. La via è più breve quando si è coscienti della propria direzione. Potere Tutta la vita è un immenso potere che si manifesta continuamente. Guarda la forza del mare e lo capirai. Guarda l'impeto del vento e lo comprenderai. Immagina le profondità infinite del cielo e riuscirai a coglierlo. Osserva la maestosità delle montagne e lo farai tuo. Perché l'uomo non dovrebbe far parte dell'immenso potere della creazione. Il vero potere dell'uomo è legato al suo rapporto con l'esistenza stessa. Se egli riesce a cogliere la sottile armonia che prevade il tutto, riesce pure a prendere parte a quella manifestazione di grandezza e potenza. Cogliere l'essenza di una cosa significa possederla. Come fai a non sentirti forte quando ti senti una parte di questa maestosa potenza in azione? Uno degli scopi del guerriero del cuore è sviluppare il suo potere personale, il potere su se stesso. Lo fa con la consapevolezza di un essere in evoluzione. Ogni essere in evoluzione tende al dispiegamento del suo potere e della sua manifestazione. Questa coscienza di evoluzione gli permette di solcare una via diretta verso il suo dispiegamento e verso la fioritura del suo essere. A mano a mano che sviluppa il suo potere interiore comprende la futile bramosia di potere sugli altri. Chi è padrone di se stesso e della sua vita possiede la sicurezza di essere centrato nell'ordine cosmico. Quale maggiore potere della consapevolezza di avere con sé la forza evolutiva dell'universo? Corpo Il corpo è il tempio dello spirito. Pochi lo sanno e pochi lo onorano. Nella dimensione materiale è uno degli elementi della manifestazione e dell'esperienza. Tramite lui si percepisce il leggero vento primaverile accarezzare il viso, si gode di un bagno rinfrescante in una fonte tranquilla, si assapora il caldo abbraccio dell'amata. Il corpo è un dono dato all'essere dai mondi dello spirito. Come una spada deve essere curata e affilata perché sia sempre pronta al suo scopo. Il corpo è temprato dai quattro elementi presenti in natura, acqua, terra, aria e fuoco. Ogni elemento di questi gli permette di rimanere in salute, la quale rappresenta una condizione importante e necessaria per una vita creativa e magica. Come puoi apprezzare la pace di un tramonto se il tuo corpo è dolorante e grida di disperazione? La materia segue il pensiero. Il corpo è la trasmutazione fisica dei pensieri e dei sentimenti di un individuo. Risolvi il tuo odio e fluisci nell'amore. Rifuggi la noia ed abbraccia la gioia che accompagna il cammino sul sentiero della tua vita. I sentimenti sono potenti ingredienti nella creazione del corpo e potenti medicine. Il guerriero del cuore disciplina gioiosamente il suo corpo. Onora l'acqua che beve scegliendola fra la più pura ed incontaminata. Con lui sarà la forza dell'onda impetuosa. Onora la forza dell'elemento terra in lui nutrendosi del prodotto dei campi. Con lui sarà la forza delle montagne. Abbraccia l'elemento aria respirando a lungo e a fondo dove gli alberi e le piante crescono rigogliosi. Con lui sarà la forza e la purezza del vento. Il guerriero si immerge nel caldo abbraccio del sole permettendo di inondare di luce tutti gli angoli del suo essere. Con lui sarà la forza del fuoco che illumina e purifica tutto. Egli entra in armonia con la materia del suo corpo per dare piena espressione allo spirito. Guarigione Il corpo ed il suo stato di salute è il pensiero coagulato dietro di esso. Lo spirito agisce attraverso la sua manifestazione materiale, attraverso le emozioni, fino allo stato del corpo. Salute e malattia è una questione di energia. Il corpo agisce come conduttore dell'energia mentale dei pensieri e dei fremiti delle emozioni. Il profumo di un fiore, la sensazione di un tramonto. Quale emozione danno al tuo corpo? Guarigione è riuscire a raggiungere quello stato psicofisico di equilibrio ed armonia con se stessi e quindi con il tutto. Così come la malattia è una richiesta di ascolto dell'anima, così la guarigione è l'occasione data al corpo di unirsi al fluire della vita. Per il guerriero del cuore, la salute non è solo assenza di malattia, ma uno stato di benessere, beatitudine ed armonia che lo portano verso uno stato di vitalità che lo rende partecipe di una vita pienamente consapevole e creativa. In quello stato di grazia, il guerriero incontra se stesso ed il cuore dentro di lui. Egli riconosce la malattia come uno stadio di crescita dell'anima per colui che non vuole sentire i suoi bisogni ed il significato della sua esistenza. Guarire è abbracciare il messaggio della malattia che allontana dallo stato di grazia dell'essere. Il guerriero riconosce la sua vita come un percorso di continua guarigione, crescita ed espressione creativa verso la piena manifestazione dell'essere supremo dentro di lui. Libertà Lo spirito di un uomo vola più in alto quanto è più libero di seguire l'onda delle sue passioni e profonde aspirazioni. Il guerriero del cuore aspira a tale libertà per coronare la sua vita della realizzazione dei suoi sogni. Senza di essa il guerriero è come un falco in una gabbia. Non può volare ma solo immaginare nella sua fervida mente le vette che su in cima lo aspettano. Schiavo è colui che svolge un lavoro per cui non ha passione, che abbraccia una donna che non ama, che segue una via che non sente nel cuore. Schiavo di una visione limitata che lo rende cieco di fronte alle possibilità sconfinate della sua vita e alle emozioni travolgenti che lo attendono. Libero è colui che viaggia nella sua vita alla scoperta di territori inesplorati, che segue l'impulso segreto del suo spirito, che ha una visione di evoluzione ed autorealizzazione. Il guerriero si conquista a poco a poco, come un abile paziente e cesellatore la sua libertà. Lo fa principalmente seguendo la sua visione ed onorando lo scopo della sua vita, mettendo l'arte in quello che fa. Cercate il regno dei cieli ed il resto vi sarà dato in più, recitano le antiche scritture. In queste sagge parole egli coglie la possibilità di una vita libera, ricca e piena di significato. Il suo cuore gli sussurrà «Fa ciò che ami e tutto il resto seguirà. Sarai il re del tuo regno e maestro della tua vita». Cooperazione Non siamo mai soli, neppure quando pensiamo di essere soli. Nel vento corrono immagini, pensieri ed emozioni che accarezzano il viso del nostro essere. Imparando ad ascoltare il sentimento dentro di sé, il guerriero si affida alla cospirazione dell'evoluzione, espressione del lavoro congiunto di tutti gli esseri, manifesti ed immanifesti. Ogni grande impresa ed il guerriero ne è consapevole è il frutto dell'impegno, della conoscenza e dell'ispirazione di una moltitudine di altri esseri. Costruiamo sulle spalle dei giganti del passato e sull'onda ispiratrice dell'immaginazione. Cooperazione implica l'azione congiunta e consapevole verso un risultato comune. i guerrieri del cuore sono spesso sparsi per il mondo ma lavorano nello spirito come se fossero fianco a fianco, gomito contro gomito. Il loro pensiero comune, volto alla propria autorealizzazione, alla propria manifestazione del divino nella vita quotidiana verso l'evoluzione globale, fa di loro un organismo vivente, pulsante, organico ed armonico. come il cuore batte dall'impulso al cervello, così il cervello dà l'impulso ai nervi. Puoi scorgere l'immateriale da ciò che è manifesto. Costruisci il tuo successo attraverso la cooperazione, affinché anche gli altri siano parte dell'impresa e trovino l'impulso verso il raggiungimento di altre vette. Intuizione Se vuoi viaggiare nei venti dell'intuizione, abbracciare cosa c'è al di là dei limiti del conosciuto, chiudi gli occhi e ascolta. Ascolta ciò che profondamente esiste nelle tue profondità. Abbandona tutto ciò che ti avvolge ed attanaglia la tua immaginazione. Abbandona i limiti della tua cultura. Essi sono le soglie di una consapevolezza che si espande e si adegua ad ogni epoca storica. Isolati dal frastuono esteriore e dai limiti della tua società. Tu solo devi essere il creatore consapevole della tua esistenza e co-creatore dell'universo. Ascolta le tue intuizioni. Sappi coglierle come si afferra un sussurro che vola leggero nel vento. Esse sono il contatto più profondo con il tuo sé, la promessa di un'armonia che chiede solo di sbocciare. Immaginazione Il futuro di ogni individuo è operante attraverso il momento presente, attraverso i suoi sogni, le sue aspettative, le sue paure, le sue aspirazioni. Il futuro è legato al presente con un filo sottile che lega i momenti che devono ancora avvenire con le singole emozioni vissute nel momento attuale. L'immaginazione è il seme del presente proiettato nel futuro. Ciò che semini raccoglierai e questo vale per qualsiasi tipo di futuro. Lo può testimoniare un uomo che ha infranto la sua verità inseguendo sogni che non gli appartenevano. Lo può testimoniare colui che con passione ha interpretato la sua esistenza. Tutti e due hanno agito in base alla loro immaginazione che nel tempo ha creato il loro futuro. Il guerriero del cuore espande la sua vita sentendo dentro di sé l'essenza di ogni pensiero che ancora non è manifesto nella realtà concreta ma che anela manifestarsi. Con la sua fervida immaginazione getta le basi della sua esistenza futura. Il guerriero del cuore non è un sognatore. Egli immagina con il cuore e opera concretamente nella realtà giorno dopo giorno in base alla sua visione. Il suo pensiero espande se stesso alla ricerca di ciò che c'è al di là del conosciuto. Immagina di perdersi negli occhi del suo amore di stringerla in un forte abbraccio di cantare con lei l'inno alla vita. Immagina il frutto del suo operare fiducioso giorno dopo giorno al di là di ogni ostacolo. La sua immaginazione è un atto di fede così come lo sono i singoli passi della sua vita. È per lui una delle più grandi armi che lo libera dalle limitazioni del passato e lo rende partecipe di un futuro di grandezza. Quale benedizione più grande di un dono che non ha limiti? Verità Il cammino è lungo e difficile senza una mappa che guidi il passo nella giusta direzione. Il guerriero del cuore incontra l'anima di coloro con i quali viene in contatto anche per un breve e fugace istante. Egli vede vede oltre oltre l'apparenza che ciascun individuo chi più chi meno costruisce attorno a sé chi lo fa per ingannare chi lo fa per non mostrare il guerriero sa sa che dietro ogni linea del viso c'è l'espressione dell'animo sa che ogni espressione è pura essenza di colui che la mostra sa che gli uomini spesso nascondono ciò che è debole e vulnerabile chi è veramente forte brilla limpido alla luce del sole né l'acqua né il sole hanno paura di mostrare la loro essenza lui è come gli elementi primordiali dell'universo è semplicemente non giudica ma accetta ognuno come portatore della propria verità il guerriero del cuore rispetta ogni onda del mare possiede in sé una propria individualità pur essendo intimamente legata sia all'onda impetuosa che alla leggera increspatura la verità per ciascuno è la saggezza del proprio cuore chi la segue fino in fondo armato della fede del coraggio e della perseveranza è colui che sarà coronato dal trionfo del proprio spirito il guerriero del cuore lo sa egli ascolta immerso nella natura il fruscio del vento fra gli alberi il luccichio del sole tra i rami il mormorio del mare egli sa ascoltare oltre l'assordante frastuono di un mondo caotico che altro non cerca che sopprimere quella voce flebile ma decisa la quale echeggia dentro di lui la verità del suo cuore dove mi porterà a volte si chiede smarrito conscio di seguire una via della quale non vede la fine ed il cuore puntuale risponde a colui che lo sa ascoltare segui la tua verità non quella degli altri solo così potrai arrivare a coronare la tua vita di un significato profondo solo così troverai i tesori della tua vita solo così troverai il trionfo del tuo essere uomo ascolta e l'uomo che ha imparato ad ascoltare la verità del suo cuore nasce come guerriero del cuore poiché a nulla servirebbero le altre qualità in un buon combattimento nel quale non si percepisca il pugno saldo ed il fremito della lacrima talento la tempra di una spada che resiste agli urti più duri la ruota di un carro che permette al viandante di solcare vie aspre e sassose la maestosità di una cattedrale che permette alle anime di toccare lo spirito del divino sono tutte espressioni di ciò che ogni uomo su questa terra nasconde nel cuore il talento tutti hanno un talento pochi riescono a riconoscerlo e a portarlo alla luce di loro stessi e del mondo pezzo dopo pezzo come fosse una scultura che viene liberata dei suoi pezzi superflui per raggiungere la splendida espressione del proprio sé non c'è cosa peggiore che tenere un pennello o una penna lontani da ciò che vorrebbero scrivere o esprimere o pensare di non essere all'altezza del proprio compito creativo ed espressivo una spada nel fodero non ha mai salvato nessuno il solo mostrarla ha salvato popoli e ha creato nei tempi grandi differenze ogni talento tenuto nella propria bisaccia è un'offesa a Dio che ce l'ha donato e al mondo che aspetta da noi il nostro tributo di grandezza grande è ogni espressione libera dell'animo che sia dell'artigiano dello scrittore o del poeta ogni cuore ha bisogno di esprimersi ed ognuno possiede le note con le quali gli è stata data la possibilità di scrivere la propria sinfonia il guerriero del cuore conosce la sofferenza di operare in ciò che non lo interessa e appassiona e conosce la trionfante soddisfazione di veder nascere ciò che forse non sarebbe mai nato senza la sua volontà di vedere espressa la nota creativa della sua anima ogni grande opera nel mondo è il frutto di persone che hanno lasciato parlare il proprio talento ed ognuno ne possiede uno il guerriero del cuore riconosce il suo e con la pazienza dell'artigiano la fede del credente e la passione dell'artista si impegna a firmare l'opera creativa della sua vita coraggio ci sono momenti nella vita del guerriero nei quali egli è messo alla prova sono messe alla prova tutte le sue qualità i suoi valori i suoi principi i suoi dubbi le sue speranze ci sono momenti nei quali deve fronteggiare una situazione nella quale è armato solamente dalla sua fede egli va avanti per la sua strada inseguendo i sogni del suo cuore i valori del suo spirito e a volte la vita gli chiede di dimostrare quanto veramente desideri dal profondo di se stesso quel cammino che ha intrapreso in quei momenti quando il guerriero percepisce gli echi di una battaglia e di un confronto imminenti chiede a se stesso quali sono le motivazioni che lo fanno stare dritto e coraggioso davanti a quella prova chiede a se stesso se il combattimento sia veramente necessario per il suo cammino e se rispetti e onori i suoi principi di crescita evoluzione e rispetto nell'universo egli non affronta mai una battaglia che non richieda la sua presenza quale portatore dei principi eterni di miglioramento ed evoluzione rifugge dalle discussioni sterili e dai confronti inutili se lui è lì dritto in piedi per combattere c'è un motivo quel motivo nasce dall'essere un guerriero del cuore una stante della fede un promotore della pace e della fratellanza fra gli uomini egli riconosce i valori per cui vive i sogni per cui avanza se cerca la luce di uno sguardo innamorato se cerca la sua maestria personale se cerca di incarnare i principi della legge del suo cuore nulla lo spaventa e nulla lo potrà fermare il guerriero del cuore avanza coraggioso nella battaglia egli sa che l'intero universo è con lui poiché è portatore di una verità eterna ed immortale lacrime un cuore duro si spezza e si sbriciola facilmente un cuore morbido batte forte ed emana calore dentro e fuori il petto che lo ospita il pianto è il fiume che scorre dentro il guerriero e rende fluido e limpido il suo spirito un volto senza pianto indurisce lo sguardo ed appesantisce il cuore ciò che è forte non è ciò che è duro ma quello che scorre libero l'acciaio si piega l'acqua non può rompersi ma solo cambiare stato per poi tornare allo stato fluido così è il guerriero del cuore quando piange il duro nasce dal morbido il duro nasce dal morbido solve et coagula echeggia nello spirito del guerriero ecco di ricordi lontani e di una conoscenza insita in ogni fibra del suo essere nell'oscurità nel suo rifugio lontano da occhi indiscreti il guerriero entra in contatto con le parti oscure di sé e piange lacrime di guarigione guarigione del suo spirito e del suo corpo ciò che deve essere abbandonato dai meandri del suo essere viene disciolto e distillato in quelle gocce che rigano il suo viso e incrinano la sua armatura che ora non ha più ragione di essere il guerriero del cuore non è stato sempre un guerriero del cuore ha spesso violato la legge in passato ha ferito con la sua parola ha tradito con la sua mano e non ha ascoltato il suo cuore seguendo strade che non gli appartenevano le sue lacrime lo rendono libero dal passato rendendolo limpido verso il futuro il guerriero del cuore piange con la dignità di un guerriero e la tenerezza di un cuore innamorato questo connubio di forza e morbidezza lo rendono temprato e saldo nel suo essere la forza della roccia e quella dell'acqua sono con lui solve et coagula concentra e disperti traspare sul volto rigato e gli occhi umidi del guerriero dubbio i risultati delle azioni tardano ad arrivare i risultati delle azioni tardano ad arrivare e la fatica del perseverare si fa sentire sempre più pesante il guerriero è stanco e sfiduciato mentre al calar di un altro giorno uguale a quello precedente si chiede se stia inseguendo un sogno irraggiungibile nei piovosi e freddi pomeriggi domenicali il guerriero si chiede se sia veramente degno di poter aspirare ai doni del buon combattimento quello che forse un giorno lo porterà ad assaporare il sapore della sua fede il guerriero dubita a volte dubita di se stesso dell'esistenza dell'amore dei suoi compagni di viaggio e del suo stesso cuore lucerna nelle notti più buie si chiede se tutto non sia un'eterna ricerca senza mai una fine il guerriero sa che la sua vita avrà un giorno un termine e ciò che più lo spaventa è quello di spendere la sua esistenza alla ricerca di ciò che forse non esiste l'unica guida ai suoi passi sono il suo cuore ed i segni che talvolta l'universo gli invia sia l'uno che gli altri sono per lui l'alfabeto di dio quell'alfabeto che lui non sempre è capace di intendere specie quando il dubbio si insinua dentro di lui il guerriero si chiede incontrerò mai il suo sguardo potrò mai abbracciarla davanti al calore di un fuoco potrò mai camminare con lei mano nella mano per le strade del mondo riuscirò a portare a termine il mio compito su questa terra le risposte tardano ad arrivare il suo cuore adesso tace lo stesso dubbio lo avvolge e lo soffoca questa è un'altra prova di fede per il guerriero o forse un momento di lucidità in un mondo senza magia solo una fede salda ed una perseveranza senza pari lo rendono un guerriero del cuore capace di andare avanti passo dopo passo nel giorno e nella notte con il sole e nella tempesta verso quelle emozioni che gli fanno vibrare l'anima il dubbio colpisce il guerriero del cuore ma lui avanza sa che la peggiore sconfitta è proprio quella di non saper credere e perseverare nel suo cammino la fede è la sua arma più potente che scioglie il dubbio come la neve al sole fede seduto sotto l'ombra di un maestoso albero immerso nel rifugio della natura solitaria ed amica il guerriero chiude gli occhi e pensa pensa al suo cammino ed al suo scopo che nonostante il grande affare ed agire non è ancora stato portato a compimento affiorano nella sua mente le immagini dei campi che ha traversato le rocce impervie che ha scalato nella speranza di trovare alla fine il compimento del suo viaggio il guerriero stanco ma soddisfatto nel suo cuore si abbandona al pensiero di aver fatto tutto ciò che nel profondo sentiva di fare nella sua mente riverberano ancora le sue parole mai dette in vano poiché sentite nel profondo in quei momenti in cui il tempo sembra che si sia fermato in cui ogni seme sembra aver finito di crescere egli affida a Dio la sua opera chiede al suo cuore se egli abbia fatto un buon lavoro chiede a Dio di provvedere alla crescita dei semi che lui ha gettato se mai un giorno possano diventare frutto per sfamare altri guerrieri e coloro che ne abbiano bisogno il guerriero del cuore dopo aver compiuto tutto ciò che poteva fare con la saggezza del suo cuore e la forza del suo proposito affida tutto nelle mani di Dio come colui che abbia lavorato nel campo e a fine giornata riponga a posto gli attrezzi a questo punto affida il suo campo all'acqua del cielo e al caldo a braccio del sole il guerriero è un uomo e in quanto tale non può andare oltre l'opera del suo braccio con questa consapevolezza il guerriero si ristora ed aspetta sicuro che il seme cresca rigoglioso come l'alba sorge luminosa al termine della lunga notte perseveranza errare è umano perseverare nell'errore è diabolico perseverare nel cammino che si riconosce come la strada della propria vita è divino l'esistenza di ciascuno dipende dalle proprie speranze dai propri valori dai propri sogni il guerriero del cuore vive la sua esistenza per un cammino che ha riconosciuto come vero egli vive per quello niente e nulla lo fermeranno come l'acqua che scorre fluisce e trova sempre una strada così è il suo operare fluire nel mare della vita attraverso gli ostacoli dell'esistenza così è lui puoi ostacolarlo ma non puoi fermarlo egli scava la roccia più dura nel guerriero sono la consapevolezza del proprio obiettivo la passione per la vita il desiderio di libertà l'anelito alla grandezza l'impeto dell'evoluzione la forza infinita è con lui chi gli è dunque contro prontezza mille giorni uno uguale all'altro una nebbia fitta senza fine un deserto sconfinato la strada sembra non avere una fine il guerriero lavora indefesso spesso solitario nella certezza che prima o poi qualcosa accada la sua è un'attesa attiva laboriosa il suo obiettivo è quello di costruire le sue abilità passo dopo passo come si affila la spada in attesa di una battaglia gloriosa che lo consacrerà guerriero vittorioso della sua esistenza anche se lui non vede la fine del suo cammino deve ogni giorno operare coscienziosamente verso la sua evoluzione ed autorealizzazione se mai ci sarà uno spiraglio di occasione lui sarà pronto il successo in ogni cosa arride a chi è pronto ad afferrarlo nel momento in cui giunge il guerriero è pronto da tempo come una spada lucente che vuole dare prova della sua tempra lui è pronto per vibrare il colpo della sua maestria cambiamento aspetto l'onda del cambiamento sono pronto dal lungo tempo lunghi giorni ed intere notti non ho passato in vano lavorando su me stesso non ho paura di aspettare ancora se ciò fosse necessario ho capito che la mia meta è il viaggio forgiare le mie qualità come guerriero la spada non si affila in battaglia ma nella cura giornaliera ho aspettato tanto il momento splendido in cui io possa mostrare a me stesso che il lavoro coscienzioso ed operoso paga sempre sono pronto Dio concedimi di mostrare la tua gloria attraverso le gesta da te ispirate concedimi l'onore di scatenare lo spirito di altri come me risvegliati signore sono pronto a cavalcare l'onda del cambiamento concedimi una opportunità affinché io possa renderle onore quando sentirò dietro di me i passi di un altro guerriero saprò con certezza di aver spezzato le sue catene e di avergli mostrato la strada verso la libertà autentica quella dello spirito uno dopo l'altro ci incammineremo verso il nostro destino diventare parti consapevoli di un unico organismo pulsante uno dopo l'altro diveremo un esercito e ciascuno prenderà coscienza di essere un tutt'uno con te sento che ora si avvicina il mio momento dammi l'opportunità che concedi a chiunque abbia oltrepassato le linee dell'inerzia e dell'inconsapevolezza che abbia mostrato di credere nella gloriosa via che hai mostrato in passato ora è il momento signore io sono nella mia verità la verità risiede nel mio cuore il mio cuore è con me e batte forte siamo tutti una cosa sola e risuoniamo in maniera armonica con il tuo flusso evolutivo signore fa che io finalmente mi trasformi ed evolva come fa il bruco quando si risveglia in farfalla sento che ora è il momento il momento del grande cambiamento ricchezza uno uno degli scopi del guerriero è quello di sperimentare l'abbondanza del creato e di godere anche delle sue manifestazioni materiali cosa è veramente la ricchezza se le cose più grandi sono insite nella natura stessa e fornite gratuitamente dall'universo quale ricchezza più grande che respirare il profumo primaverile delle piante in fiore di sentire il tepore dei raggi del sole sulla pelle di un bagno rinfrescante in un angolo di mare azzurro di fare l'amore sulla spiaggia al chiaro di luna la vera ricchezza è riuscire a percepire la grandezza ed il valore di tutte queste cose e tutto questo è possibile quando l'anima ed il cuore sono in pace e in armonia con se stessi e con l'universo intero ma la ricchezza nel mondo materiale non è solo questo ed il guerriero del cuore lo sa bene ricchezza è anche libertà di fare ciò che si ama esplorare luoghi lontani nel mondo poter fare tutto ciò che il cuore chiede come esperienza nel mondo concreto come diventare ricchi e poter accedere alla ricchezza materiale testimone e prova di questo miracolo è ogni guerriero del cuore che non abbia anteposto la materia allo spirito a lui è indicata la strada del suo successo personale attraverso ciò per cui è nato ascoltando gli impulsi che gli provengono da dentro egli asseconda e crea passo dopo passo la sua maestria personale come una scultura che si crea con piccoli colpi di scalpello così lui crea il lavoro della sua vita attraverso piccoli ma significativi passi di apprendimento e messa in opera ogni gradino porta in sé l'anima del successo in quanto rappresenta per lui un passo verso l'evoluzione la maestria la manifestazione ed il servizio è scritto qualsiasi cosa tu abbia nel cuore vai e falla il signore è con te l'intero universo cospira verso la sua evoluzione e manifestazione quando egli lavora lo fa con il cuore come se fosse innamorato di ciò che fa con questi presupposti crea valore per se stesso e per gli altri il suo operato qualsiasi esso sia se eseguito con arte ed amore migliora se stesso e la vita degli altri quale miglior metodo per attirare a sé la ricchezza cercate il regno di Dio ed il resto vi verrà dato in più il guerriero del cuore ha occhi per vedere ed orecchie per sentire segue i suoi sogni con fiducia e perseveranza solo la maestria e l'amore creano lo stato dell'arte in quello che si fa la materia segue il pensiero le manifestazioni materiali seguono lo spirito per essere ricco fuori devi essere ricco interiormente devi diventare l'artista della tua vita umiltà è arrivato il giorno in cui il successo raggiunge il guerriero del cuore dopo tanto perseverare nei propri ideali e al di là di ogni speranza ormai ridotta ad un flebile stimolo qualcosa accade il valore del guerriero dimostrato nel suo cammino di fede speranza e trasformazione raggiunge gli occhi di tutti ciò che fino ad un attimo prima era celato dietro una porta d'oro e riservato solo a pochi ora gli viene offerto il guerriero è sempre lo stesso ora come prima ma sembra che tutt'ora gli sia offerto su un piatto d'argento onori e gloria ad un vincitore a questa vista il guerriero sorride e gioisce nel profondo ma non si adagia alle lusinghe degli altri e alle proposte fastose di alcuni che lo vedono solo come un cavallo da competizione su cui scommettere ora come allora il guerriero è lo stesso seppur sempre nel suo cammino di costante trasformazione la sconfitta come il trionfo ed il successo sono facce della stessa medaglia e lui sa bene che ha bisogno di tutte e due per imparare a progredire lui sa bene che onori e gloria hanno distrutto ed annientato eserciti e pro di cavalieri la sfida produce cambiamento la stasi nel lusso e nell'ozio possono ucciderlo con questa consapevolezza il guerriero gioisce di questi meritati momenti ma sa perfettamente che ciò che ora è in alto domani potrebbe essere in basso quella stessa forza che ora quasi d'improvviso e magicamente lo ha portato a sedere alla tavola reale domani potrebbe riportarlo con i piedi nel fango se solo dimostrasse di sentirsi il grande nel banchetto degli onori ma lui sa benissimo che ciò che veramente vale nella vita è ciò che si dà agli altri ed i valori che si custodiscono nel cuore sono tutto ciò che un giorno porterà con sé al cospetto della forza generatrice il guerriero del cuore al cospetto del trionfo degli onori e del successo ringrazia coloro che lo hanno aiutato nell'impresa spartendo il meritato bottino e mostrando loro quanto siano stati grandi nella loro parte si siede al banchetto dei festeggiamenti gustando il sapore di quei piatti che prima non gli erano concessi terminato il banchetto ringrazia riaffila la sua spada e riparte per il suo viaggio di ricerca e trasformazione ringraziando Dio per avergli dato l'opportunità di avere l'esperienza della vittoria destino la più grande opportunità che sia stata concessa al guerriero del cuore è la sua stessa vita egli è nato con una missione quella di adempiere al suo destino il destino è per lui la più grande sfida sta a lui riconoscere i segnali sul suo cammino e le emozioni nel suo cuore che lo guidino verso il compimento della sua esistenza non sempre è consapevole dei segnali che lo guidano e spesso il suo cuore tace lasciandolo perduto nel mare dei dubbi nei momenti di smarrimento quando perde di vista il suo cammino e non riesce a ascoltare se stesso il guerriero del cuore si sente perso in balia di un destino ignoto le luci sul sentiero sono per lui i segnali che Dio gli invia i suoi sentimenti sono lampade che illuminano il suo destino quando il guerriero si sente in balia di un destino che non gli appartiene per prima cosa chiede a se stesso se egli abbia violato la legge del suo cuore e se abbia tradito i suoi sentimenti poi chiede a Dio di illuminarlo e di concedergli ancora la benedizione del buon combattimento una volta ritrovata la pace dentro se stesso il guerriero del cuore impugna di nuovo la spada della sua fede e continua a percorrere le strade del mondo un giorno egli lo sa dovrà rendere conto a Dio della sua vita se sarà stato un buon combattente mostrando il valore di una vita vissuta nel compimento della propria verità e dei propri valori avrà adempiuto il suo destino il destino è per il guerriero l'opera della sua vita Dio gli ha concesso la vita sta a lui onorarla e consacrarla al suo destino più alto religiosità moltitudini di masse che recitano inconsapevoli parole che non capiscono con la mente e non sentono con il cuore riti religiosi che seguono regole ormai consolidate e delle quali non si riconosce ormai più il significato adorare immagini statue fatte di marmo e gesso è forse questa la religiosità dove è Dio lì troverai la religiosità con lo stupore di un bambino con la forza di un Dio consapevole se qualcosa è religioso chiedilo al tuo spirito sentilo con il cuore è religioso tutto ciò che ti fa avere un'esperienza profonda con il divino quel divino che è in tutte le cose sei mai stato seduto sulla riva di un fiume tranquillo ad osservare lo scorrere placido dell'acqua silente religiosità è entrare in comunione con gli esseri gli elementi e l'esistenza tutta religiosità è apprezzare l'esistenza in tutte le sue manifestazioni ed essere consapevole che tu sei tutto e tutto è uno il guerriero del cuore rifugge dalle convenzioni religiose ecco di una religiosità ormai stanca obsoleta e primitiva che non libera lo spirito dentro l'individuo perché non lo rende consapevole dell'esistenza di Dio in lui ma lo piega ad immagini esterne a lui stesso finché non verrà riconosciuta la vera religiosità il sacro rimarrà esterno all'esistenza comune e Dio non verrà visto in tutte le cose ed in tutte le sue infinite manifestazioni il guerriero del cuore riconosce di essere una scintilla del Dio vivente ed eterno in tutta la creazione con questa profonda consapevolezza si avvia verso la via del sacro della scoperta momento dopo momento che tutto ciò che c'è di religioso è già esistente dentro di lui e dentro ogni cosa che incontra religiosità è adorare il Dio comune a tutte le razze e a tutti gli esseri di ogni grado di consapevolezza riconoscendo la sua maestosità e l'amore che permette a tutte le sue manifestazioni di esistere ed evolversi preghiera talvolta chiuso nel suo rifugio immerso in un bosco in cima a una montagna o davanti all'immensità del mare il guerriero del cuore cerca il contatto con la forza eterna ed infinita così leva le sue parole a Dio Signore mio grandezza infinita ascolta le mie parole fa che la tua forza inondi le mie membra e le renda piene di vigore fa che ogni mio passo sia sicuro verso le buone mete a cui tanto aspiro e per cui combatto ogni giorno fa che io sia degno dei doni che riservi a coloro che sono impegnati nel cammino del buon combattimento e che sono fedeli alla tua legge la legge del cuore rendimi saggio nel momento della scelta rendimi forte nel momento della battaglia rendimi fiducioso nei momenti di dubbio mantieni in me la passione che brucia nel cuore e che mi spinge verso vette sempre più elevate dell'essere rendimi umile di fronte alla vittoria e agli onori rendimi degno di rappresentare la tua legge molte volte ho dubitato di te e delle forze che ti obbediscono molte volte ho ricreduto scorgendo la sottile armonia che tutto pervade concedimi ogni cosa mi fosse necessaria nel mio cammino per il mio bene e per il bene comune rendimi degno qualora fosse necessario di mostrare la spada e di impugnarla nel tuo nome e per la tua legge rendimi degno o Signore di godere delle bellezze di questo mondo che io apprezzo ed amo conferiscimi il tuo supremo aiuto visibile ed invisibile nel momento del bisogno mantieni in me radicate le virtù del guerriero del cuore che mi guidano attraverso foreste deserti e mari verso la piena espressione del mio sé superiore sono nulla ma tutto posso con te a fianco sia fatto secondo la tua volontà un guerriero del cuore pace guarda negli occhi del tuo nemico guarda l'essere che c'è dentro il suo corpo osserva le sue paure comprendile e fa le tue osserva la ricerca della vita dietro i suoi sogni e le sue speranze vedi i suoi figli sua moglie e la sua casa cammina con le sue scarpe logore per un lungo cammino respira i suoi sentimenti e le sue emozioni immaginalo mentre abbraccia sua madre ed ascolta le sue raccomandazioni come un bambino ascolta i suoi dubbi sulla vita e sulla sua esistenza senti la sua paura di perdere l'esistenza in un conflitto futile perché contrario alla vita riconosci Dio dentro di lui e vedi te stesso dietro i suoi occhi esempio un'immagine vale più di mille parole un esempio ne vale più di diecimila il guerriero del cuore ha un compito ed una responsabilità il compito è quello di diventare il maestro di se stesso re del suo regno ed artefice della sua vita la responsabilità concerne il far risplendere sugli altri la luce che risplende dentro di lui affinché ognuno risplenda di luce propria egli riconosce il suo compito che è quello di indicare ed illuminare la via quella stessa via che lo ha reso un guerriero del cuore e gli ha reso la capacità di comprendere la profondità dell'essere al di là di ogni effimera e falsa manifestazione esteriore del solo apparire il guerriero del cuore sente forte la responsabilità dell'esempio specie in un'epoca in cui i valori sono un vago eco ricordo di tempi perduti in tempi oscuri nei quali l'individuo è addormentato nelle braccia dei mezzi di comunicazione di massa che tutto fanno tranne che permettere all'individuo di sentire il sussurro dei propri sentimenti sensazioni ed aspirazioni il guerriero mostra ciò che uno spirito risvegliato ai valori e alla grandezza dell'essere è capace di fare egli lo fa non per dimostrare ma per mostrare lo fa nella vita di tutti i giorni nella maestria del suo lavoro qualunque esso sia lo fa apprezzando la bellezza dei piccoli gesti quotidiani che provengono dai cuori semplici lo fa apprezzando la forza della natura entrando in comunione con gli elementi lo fa nell'amore avendo fiducia nell'armonia che si compie ogni momento nell'universo mediante la fusione degli opposti verso l'unità credendo e vivendo la realtà di un rapporto trasformativo lo fa semplicemente essendo al massimo delle sue capacità il guerriero del cuore conosce la forza straordinaria dell'esempio lui apre la strada affinché altri possano passare quante vite passate nel sonno profondo del non essere lui è qui per mostrare a chi è pronto la strada verso un nuovo mondo un mondo in cui vivere è una delle esperienze più straordinarie e trasformative quanti amici lo riconosceranno come colui che una volta era al loro fianco e si lamentava del suo senso di impotenza di fronte alla vita l'esempio del guerriero del cuore accende gli occhi e fa ardere il cuore chi lo segue diventerà anche egli maestro di se stesso re del suo regno e artefice della sua vita passione un ricordo che fluttua nel tempo era una notte di mezza estate quando il guerriero del cuore ha conosciuto ed avuto l'esperienza della bellezza passionale nell'intimità del suo rifugio al chiarore del fuoco Dio ha concesso l'inebriante esperienza di abbracciare e stringere la rappresentazione femminile della divinità il guerriero del cuore ama la bellezza e la vede come espressione di un'arte l'arte di Dio in quella notte indimenticabile il tempo si era fermato e la luna rifletteva i suoi morbidi raggi su quei due corpi nudi che ispiravano agli dei il desiderio di essere umani di sentire l'intensità di quella passione e di quel sentimento immersi in un lungo abbraccio i due amanti cantavano l'inno alla vita il guerriero del cuore non dimentica non dimentica quelle sensazioni la bellezza e purezza di quelle sensazioni lo spingono a cercare ancora l'abbraccio con la Dea un altro grande scopo nella vita del guerriero un altro grande motivo per solcare le strade del mondo nulla e nessuno lo fermeranno il guerriero del cuore vive per l'esperienza di sentimenti profondi che lo trasformano fin negli strati più nascosti del suo essere ora lei è lontana ma un sottile filo collega i due amanti la distanza non conta quando la profonda unione degli occhi ed il caldo abbraccio dei cuori hanno impresso indelebilmente una traccia nella loro memoria le stagioni passano e si avvicendano l'estate ritornerà e così pure l'unione sacra di due anime e due corpi il guerriero lo sa nel suo cuore amicizia come fratelli nella notte avanzano nella propria vita aiutandosi l'un l'altro avanzano sulla propria strada sapendo che lungo il cammino ci sarà sempre un braccio pronto a sollevare ed un orecchio pronto ad ascoltare nella tristezza della delusione e nella gioia della vittoria il guerriero del cuore cerca la vicinanza di altri guerrieri che lo fanno sentire amato e rispettato molte volte ha sentito piangere il cuore di un amico molte volte ha svelato il suo l'amicizia è sacra per il guerriero poiché è l'inizio della riscoperta di una fratellanza che non ha fine quanti suoi amici erano una volta parte di una schiera di volti sconosciuti egli sa che dietro ogni nuovo volto si cela un nuovo amico ancora sconosciuto con i suoi dubbi le sue paure i suoi sogni e le sue speranze ogni volta che stenta a tendere la mano per aiutare sa che potrebbe essere un'occasione persa per la scoperta di un altro fratello perché siamo tutti amici legati da un profondo vincolo di fratellanza che aspetta solo di essere riconosciuto amore ho scritto il tuo nome sulla riva lucente del mare era un nome bello misterioso ed affascinante ho pregato che il sole lo rendesse indelebile così da renderlo parte di quella riva incantata ho implorato il vento affinché lasciasse incise quelle lettere meravigliose sulla sabbia bagnata ho protetto quella parola dai passi leggeri dei gabbiani che solcano la riva ho invocato gli angeli affinché lo facessero mio un'onda leggera ha poi invaso la riva cancellando in un baleno quelle lettere misteriose nulla può trattenerlo con la forza nulla può fermare il suo sgorgare e divenire ora fa parte di me non più scritto sulla sabbia ma inciso nel mio cuore il suo nome è amore tanto immenso quanto sfuggente abbandona la volontà ed esso sarà tuo verrà a te come un'onda del mare unione soli sperduti su una spiaggia remota alle pendici di una vegetazione lussureggiante sono loro e si sono incontrati dopo un girovagare infinito di incontri che non sembravano aver mai fine quanti occhi il guerriero del cuore ha dovuto incontrare prima di scorgere quella fiamma che ora lo arde e lo rapisce quante volte ha tenuto stretto nel suo cuore quel sentimento che da pura potenzialità è ora realtà presente e viva solo l'intuizione di un sentimento più grande lo ha portato avanti passo dopo passo attraverso le lande desolate della sua solitudine spesso il guerriero veniva chiamato eremita dai suoi compagni ma lui sapeva che doveva percorrere da solo la via dentro se stesso che lo avrebbe portato a lei miracolo vivente di un connubio divino di passione bellezza ed amore il guerriero vive anche per provare ad assaporare quel sentimento di profonda unione che benedice quegli esseri che hanno creduto nella manifestazione più alta ed autentica del connubio tra due anime e due corpi entusiasmo l'entusiasmo è quella forza viva che sostiene ogni azione del guerriero del cuore è quella spinta che lo rende partecipe di un'esistenza viva e ricca di sorprese solo l'entusiasmo in quello che fa può rendere la sua azione decisa e limpida come una cascata in montagna egli persegue l'onda dell'entusiasmo poiché essa è il segnale rivelatore e segreto che il suo cuore è lì in quell'azione ed in quel sentimento intraprendere un'impresa con entusiasmo è come partire per un viaggio avventuroso con il vento alle spalle e con le vele gonfie e ricolme di forza propositiva dove c'è amore e passione per ciò che si persegue lì c'è l'entusiasmo barlume rivelatore di un successo celato l'entusiasmo è il cavallo di battaglia del guerriero del cuore scalpita e si dibatte pronto a lanciarsi verso quel sentore di profondo significato che si cela dietro la vita di colui che cavalca con passione la sua vita insegnamento il guerriero del cuore si inchina di fronte alla maestosità degli insegnamenti donati a lui e dall'umanità intera dai maestri di saggezza di tutti i tempi in un mare di grande caos e di valori effimeri egli riconosce il valore dell'essere al di là di ogni avere ed apparire nel silenzio dei boschi sulle rive di un fiume tranquillo e davanti alla grande forza dell'acqua il guerriero cerca il contatto con l'insegnamento il suo cuore è il più grande insegnante perché decide al di là di ogni imposizione e suggerimento immerso nel silenzio di se stesso e nell'armonia della natura ascolta l'eterna saggezza che proviene dal grande vuoto che crea dentro di sé senza il vuoto non si può creare il pieno ed il guerriero si libera dei preconcetti e limitazioni della consapevolezza sociale che altro non fanno che rendergli oscura una luminosa visione di grandezza la luce sul sentiero gli è donata dall'insegnamento dei maestri incarnati e disincarnati di tutti i tempi i quali parlano attraverso lampi di comprensione e fremiti di sentimento il guerriero del cuore nutre il suo spirito con parola scritta di testi sacri nella loro divina essenza e maestosi nella grandezza del loro messaggio il guerriero legge scruta ascolta in ogni parte trova un frammento di conoscenza una conoscenza spesso svelata nella parola scritta ma purtroppo spesso ignorata dall'uomo comune limitato nella sua visione ristretta ed ignaro del futuro di grandezza che lo attende un giorno nell'eternità dell'essere ogni messaggio ogni parola ogni frase di questi insegnamenti vibrano le corde dei sentimenti nell'animo del guerriero del cuore e nutrono profondamente il suo spirito a volte piange solitario commosso dall'amore profondo che traspare e dalla semplicità con il quale è presentato pur nella sua grandezza tali parole tali insegnamenti sono da lui riconosciuti come atti d'amore e compassione nei confronti dell'umanità se l'uomo comune si impregnasse della gloria e della grandezza dei sentimenti evocati da questi libri una immediata trasformazione interiore avverrebbe all'interno di ogni singolo individuo e all'interno di ogni società l'intera consapevolezza umana ne risulterebbe profondamente trasformata non più l'uomo andrebbe contro l'uomo perché vedrebbe nell'altro una parte di se stesso non più invidierebbe il vicino per ciò che possiede poiché sarebbe consapevole di riuscire a creare ciò che realmente desidera per la sua evoluzione esperienza e comprensione non più seguirebbe una strada che non gli appartiene rendendosi schiavo di una visione che non è sua ma seguirebbe libero il sacro cammino che il suo cuore gli indica lunga è la fila dei maestri che sussurrano all'orecchio e dallo spirito del guerriero del cuore egli ne è profondamente riconoscente e si assume la responsabilità di diffondere questa parola di libertà potere maestria ed amore egli fa ciò incarnando gli eterni principi assorbiti nel suo essere impegnandosi a rappresentare una luce per il mondo questa luce è data dalla forza dell'esempio forse il guerriero del cuore non sarà immortale perché un giorno desidererà ricongiungersi alla fonte infinita ma parte di lui vivrà in ogni altro guerriero del cuore che grazie al suo esempio personale gli avrà instillato gli insegnamenti rendendolo consapevole di essere ciò che è un guerriero del cuore creatività la creatività è l'impulso dato da Dio all'uomo per estrinsecare la sua grandezza e la sua manifestazione ogni azione è creazione istante dopo istante verso la piena estrinsecazione del creatore tutta la vita è un dispiegamento creativo che ne siano meno consapevoli gli esseri che mettono in atto la loro opera per il guerriero del cuore la creatività è il fiorire del suo essere verso vette sempre più alte egli si sente il portatore di uno dei pennelli che affrescherà l'opera del signore consapevolezza creativa come estrinsecazione consapevole della propria missione e della propria evoluzione quale gioia più grande di prendere parte consapevolmente alla manifestazione ogni atto creativo del guerriero del cuore lo porta sempre più vicino a Dio poiché la creatività è per lui una necessità impellente del suo spirito verso l'unione e la manifestazione di Dio attraverso la vita genialità la conoscenza è una delle vie attraverso il quale l'essere e la società possono evolvere ma può anche costituire il loro stesso limite può essere una strada ma anche una barriera verso l'espansione della conoscenza stessa la conoscenza cristallizzata in vecchi schemi di pensiero diventa un dogma accettato indiscusso e venerato genialità e andare oltre gli schemi comuni ed accettati per avventurarsi nello sconosciuto il guerriero del cuore si immerge nella conoscenza attraverso la sua intuizione che è l'alfabeto di Dio ogni manifestazione materiale è l'espressione di un principio presente ad un livello differente di manifestazione è il pensiero della forma egli cerca il pensiero dietro la forma lo fa superando il pensiero limitato ed alterato della consapevolezza sociale che si conforma ciecamente ai dogmi ed ai modelli sociali e di conoscenza impostigli il guerriero compie questo passo straordinario verso la genialità seguendo il sussurro delle sue intuizioni profonde ed immergendosi nel piano della supercoscienza attraverso la meditazione meditazione fermati guerriero abbandona abbandona per un momento il turbinio di una vita caotica e vorticosa dove tutto rincorre tutto trova il centro dentro il tuo essere dove esiste se solo avrai la fiducia di cercarla una fonte di calmo e placido benessere dove tutto risiede in un equilibrio armonico in quella fonte troverai la connessione con il tutto dove tu sei il tutto ed il tutto è te stesso non rincorrerai più alcuna cosa perché saprai di possedere l'intera creazione in quel mare infinito di pace e calma troverai Dio e ciò che è più importante ritroverai te stesso come limpida goccia di un mare infinito e sconfinato in quel vasto mare troverai ogni fonte del sapere e del sentire poiché ogni manifestazione ed ogni sentimento da esso origina ed in esso si fonde non cercare altrove ciò che già possiedi non rincorrere freneticamente ciò che è stabilmente radicato nel tuo stesso essere sappi che sei Dio e nella sua maestosità tutto ti è possibile se solo saprai entrare in armonia e risonanza con Lui attraverso quel passo di annullamento del tuo io che si tramuta nella coscienza del tutto un tutto che è sempre stato e sempre sarà in ogni fibra del tuo corpo ed in ogni goccia del tuo spirito cerca il contatto con la forza infinita attraverso l'abbandono il fiducioso abbandono di chi pensi di essere in questo momento scoprirai l'alba di una nuova manifestazione e di un nuovo stato d'essere abbandona il vecchio ed apriti al nuovo così come il sole annuncia l'alba di un nuovo giorno abbandona la mente ed apriti a tutto ciò che si annuncia come pura espressione di ciò che si manifesta attraverso il suo puro stato d'essere come il fiore sboccia semplicemente aprendosi alla vita così tu guerriero e messaggero di una nuova alba abbandonati a tutto ciò che senti vero per te stesso e per la tua vita abbandonati fiducioso alla meditazione ascoltando i sussurri di un bosco o il bisbiglio di un ruscello cogli il messaggio del vento che spazza via dolcemente ogni pensiero allontanati dalla pazza folla e dalla follia dei media ascolta la tua voce interiore cosa ha da dire il tuo cuore sappi che in quello che ti sussurrerà troverai la ragione della tua esistenza e l'armonia della creazione poiché avrai ritrovato la via del ritorno a casa ti riconoscerai come una parte pulsante dell'universo una parte armoniosa della coscienza di Dio Dio cerca Dio nelle scintille del mare dorato lì lo puoi trovare cerca Dio tra le spighe di un campo di grano lì lo puoi trovare immagina di trovarlo a casa che ti aspetta negli occhi di tua moglie e nel sorriso di tuo figlio è proprio lì prova a scorgerlo nello sguardo del mendicante e nella sua mano tesa Dio è anche lì cerca dentro di te e vedrai il sole dei soli la cosa strana è che Dio si trova pure lì difficile da vedere con i tuoi stessi occhi ma così profondamente radicato in tutto il tuo essere responsabilità trovare se stessi in mezzo al caos e dai falsi valori camminare per le strade del mondo facendo brillare la propria luce questa è la responsabilità del guerriero del cuore è un dovere verso se stesso e verso Dio creatore avere una missione non basta occorre portarla avanti giorno dopo giorno la verità è nulla senza azione e così come lo è la stessa fede la conoscenza di sé è un bene ma anche una responsabilità pecca contro la creazione colui che tradisce se stesso e di propri valori quelli del cuore ma doppiamente pecca colui che è consapevole di quale sia la sua strada e le vere ragioni della sua esistenza e le tradisce egli tradisce Dio in lui stesso il guerriero aspira alla luce come il seme anela a spuntare dalla terra umida e scura per proteggersi verso il sole ogni guerriero del cuore è portato a riconoscere la sua responsabilità verso il suo cuore che è Dio in lui e verso i suoi fratelli meno consapevoli egli non giudica accetta e porta avanti il suo messaggio un messaggio di grandezza seppure nella sua semplicità un messaggio di valore in mezzo a tante futili distrazioni ogni guerriero possiede una missione potente svelare la strada verso l'esaltazione dell'esistenza e della vita in ogni sua manifestazione con lui è tutto l'universo ma egli deve procedere come se fosse solo nel portare la verità ai fratelli non può delegare a nessuno ciò che lui ha scelto come motivo del suo respiro in questo consiste la sua responsabilità grandezza il guerriero del cuore si rivolge alla schiera di altri guerrieri incitandole ad affrontare con fede coraggio e passione la sfida della loro vita su una collina ventosa si rivolge a loro amandoli per la loro libera scelta di unirsi alla schiera e rispettando profondamente lo spirito in loro guerrieri prodi spiriti pronti alla consacrazione della vostra vita e al destino più alto mi rivolgo a voi affinché nella grande sfida della vostra esistenza portiate la fede e la speranza nei cuori dei più timorosi mi rivolgo a voi affinché la vostra vita sia un contributo alla grandezza e dall'evoluzione dell'essere guerrieri parlo ora a quella forza infinita che risiede in ciascuno di voi e che aspetta solo di potersi manifestare attraverso le vostre vite chiedo a ciascun guerriero del cuore qui presente di aprire gli occhi e lo spirito di coloro che sono ancora avviluppati dalle tenebre dell'ignoranza ed impantanati in una vita che loro credono senza alcun significato vi incito a seminare attraverso le azioni della vostra esistenza lì dove il dubbio soffoca la fede e dove la paura soffoca la grandezza del destino più alto di ogni singola vita che le nostre vite siano un esempio vivente di ciò che uno spirito risvegliato alla vita sia in grado di manifestare luce amore potere questa è la via inno alla vita perditi nella luce dei primi raggi del sole nascente messaggero di un altro giorno glorioso abbandonati alla brezza leggera che fa ondeggiare l'erba e ti accarezza dolcemente il viso immergiti nel sapore dei baci inebrianti della tua amata ammira la forza della natura che cerca sempre una strada nell'esistenza in un filo d'erba che si protende verso il cielo e nel rifiorire incessante delle stagioni stupisciti di quel sentore di grandezza che senti balenare nel tuo cuore ogni volta che pensi al significato della tua vita vai incontro alla vita e abbraccia l'opportunità che ti dà ogni giorno di creare insieme a lei e di entrare a far parte della sacralità della manifestazione hai ascoltato Il guerriero del cuore pensieri e riflessioni per conquistare la propria vita di David De Angelis edizione audiolibro 2022 di David De Angelis narrato da Alex Martinelli tutti i diritti sono riservati organizzano di Davide De Angelis Grazie a tutti